È iniziata la giornata di mobilitazione, scioperi e lotte a Padova. È iniziata davanti all'ingresso di una serie di magazzini, tra cui c'è TNT, c'è DHL, c'è Carelli e alcuni altri magazzini, Corrieri. L'iniziativa parte con lo sciopero del turno delle 9 in TNT e immediatamente ci hanno raggiunto al presidio che abbiamo iniziato anche i lavoratori della GLS che hanno scioperato e hanno costretto GLS a chiudere così come anche TNT ha chiuso il magazzino, così come sta avvenendo in molte altre parti d'Italia dove i più grossi Corrieri nazionali e anche multinazionali hanno dovuto accettare questa giornata di sciopero e sono stati obbligati a chiudere una giornata intera in magazzini. Ma il motivo del presidio qua davanti è legato anche al fatto che all'interno di questo complesso di magazzini c'è Arco Spedizioni che è uno di quei Corrieri che meno di altri hanno accettato di trattare con le realtà auto-organizzate e stanno continuando in perterriti a riprodurre all'infinito quelle logiche assolutamente inaccettabili che hanno caratterizzato e purtroppo stanno ancora caratterizzando in molte situazioni le cooperative con tutto lo strascico appunto di licenziamenti, mancata cambi di appalto, mancata applicazione integrale dell'accordo del contratto nazionale, alzeramento degli scatti di anzianità, alzeramento dei livelli e questo è quello che è avvenuto un anno e tre mesi fa qua in Arco dove la ventina di lavoratori della cooperativa che allora operavano hanno subito l'ennesimo cambio e sono stati assunti poi addirittura con contratti a termine e con alzeramento di tutti i livelli e l'anzianità. Oggi si riproduce la stessa situazione, al primo ottobre sarà un nuovo cambio di cooperativa, stesse dinamiche, stessi meganismi ma non solo ma Arco ha anche proceduto ancora alcuni mesi fa a denunciare i lavoratori che avevano scioperato e anche a denunciare attivisti della DL Cobars. Quindi lo scopo di questo presidio qua davanti è duplice, quello di far capire anche ad Arco che non c'è nessuna possibilità da parte loro di intimorire o di mettere paura a questo movimento di lotta che si sta allargando sempre di più. Più loro insisteranno su questo tipo di percorso più troveranno lavoratori disposti a venire qua davanti a contrastare queste scelte scelerate. Ovviamente la nottata sarà lunga, da qua poi ci sposteremo in altri magazzini dove dovrebbero iniziare i turni di lavoro per arrivare poi alle 7 e mezza di mattina, giornata, nella mattinata insomma dove inizieremo questo corteo di macchine, moto, motorini, biciclette eccetera che percorrerà tutte le vie qua della zona industriale per protestare contro in primo luogo le modifiche dell'articolo 18 ma anche per conquistare nuovi obiettivi all'interno della logistica.